Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, l'intelligenza artificiale di Google AlphaZero ha definitivamente cambiato la nostra percezione sugli scacchi. Ci ha mostrato manovre e mosse che non avevamo mai visto prima, ora andremo a vedere una partita pazzesca dove AlphaZero batte Stockfish con una combinazione micidiale estremamente creativa e molto complicata. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace e di iscrivervi al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok eccoci qui, siamo nel 2018 e si sfidano con i pezzi bianchi Stockfish, programma di scacchi campione del mondo e AlphaZero che ha imparato a giocare a scacchi in sole 4 ore. Stockfish inizia con pedone 4 segue pedone 5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, rientriamo nella partita italiana. AlphaZero continua con cavallo F6, mette subito pressione sul pedone in E4 e Stockfish gioca cavallo G5, una variante che prende il nome di attacco prussiano. Il bianco chiaramente mette pressione sulla casa F7, è una variante ben conosciuta, AlphaZero continua con pedone D5, segue pedone per D5, cavallo A5 per attaccare l'alfiere in C4, Stockfish gioca alfiere B5, pedone C6, pedone per C6, pedone per C6 e alfiere D3. Questa è anche la mossa migliore. Il bianco in questa variante ha guadagnato un pedone ma il nero praticamente ha tutti i pezzi attivi, può già sviluppare gli alfieri, può mettere il real sicuro, ha un buon controllo del centro, sono chiaramente tutte mosse teoriche. Qui AlphaZero gioca cavallo D5, centralizza il cavallo e attacca il cavallo in G5 con la donna, Stockfish ritira il cavallo in F3 attaccando il pedone in E5, AlphaZero difende E5 sviluppando un pezzo, ovvero l'alfiere. Stockfish mette il real sicuro con arrocco e AlphaZero gioca cavallo F4. Il cavallo in F4 è un pezzo molto forte perché attacca direttamente la casa G2, in questo caso sta attaccando anche l'alfiere in D3. Stockfish continua lo sviluppo, gioca torre in E1, mette pressione sul pedone in E5, AlphaZero cattura l'alfiere, doppia i pedoni di Stockfish, ottiene la coppia degli alfieri, ha chiaramente un pedone in meno però ha compenso posizionale, la posizione qui è pari. La partita continua con arrocco, Stockfish gioca cavallo C3 e AlphaZero gioca pedone C5, lascia un altro pedone in presa, ovvero il pedone in E5. Stockfish chiaramente cattura con il cavallo, segue alfiere B7, AlphaZero pensa allo sviluppo, guardate questi due alfieri sono molto forti, entrambi attaccano il re del bianco e Stockfish qui gioca pedone B3. Con pedone B3 chiaramente vuole cercare di sviluppare in qualche modo l'alfiere, ad esempio alfiere B2 oppure alfiere A3. AlphaZero continua con torre 8, continua ad attivare tutti i suoi pezzi, mette pressione sul cavallo in E5, Stockfish gioca cavallo C4. Ecco questa è un'ottima mossa sicuramente perché l'idea qui è quella di semplificare la posizione, dato che Stockfish ha due pedoni in più vuole cambiare i pezzi chiaramente. AlphaZero cattura in C4, segue torre per E8 scacco, mossa intermedia, donna per E8, pedone B per C4. Ok, Stockfish riesce a cambiare qualche pezzo, però non sembra abbastanza perché il nero appunto ha due alfieri molto forti e sta anche per entrare ad attaccare con la donna. Quindi non è per niente facile per il bianco giocare in questa posizione, chiaramente questi sono due super computer, sono molto forti. AlphaZero continua appunto con donna E6 con l'idea donna G6, donna per G2 scacco matto. Qui ovviamente siamo in una posizione nuova che non era mai stata giocata prima del 2018 ma ho visto neanche dopo il 2018, nessuno è mai più rientrato in questa variante. Stockfish continua con l'alfiere B2, segue torre B8, AlphaZero mette pressione a raggi X sull'alfiere in B2, cavallo B5 per Stockfish attacca l'alfiere in D6 e attacca anche il pedone in A7. AlphaZero minaccia scacco matto in una mossa con donna G6, Stockfish difende con donna F1, segue alfiere F4. Questa mossa non serve tanto ad attaccare il pedone in D2 ma più che altro serve a salvare l'alfiere perché il bianco era pronto a catturare l'alfiere in D6. Qui Stockfish continua con cavallo per A7, guadagna un altro pedone, ora ha ben 3 pedoni in più. Ma sappiamo bene quanto Stockfish sia materialista, se ci sono pezzi in presa Stockfish li cattura se non vede grossi rischi ed effettivamente qui non sembra che ci siano grossi rischi. Ma in realtà AlphaZero ha un attacco devastante. Qui continua con pedone H6, mossa tranquilla, dà una casa al re, segue alfiere C3, donna in H5, minaccia scacco matto in una mossa, Stockfish si para con H3, torre in A8. Con questa mossa AlphaZero mette fine ai giochi, ha calcolato una variante veramente pazzesca. Ora ve la mostro, intanto Stockfish qui continua con donna D1, regala un pezzo in pratica perché va a stare peggio, perde un pezzo. Ma la variante è calcolata da AlphaZero, guardate cosa succede se Stockfish salva il cavallo. Ad esempio cavallo B5, arriva una mossa micidiale alfiere F3. Wow, bene ma cosa succede se il bianco cattura questo alfiere? Ok, pedone per alfiere, torre A6 per venire a dare scacco matto. Allora il bianco qui può continuare con re in H1 ad esempio, torre G6 comunque. E ora il bianco non può difendere sia H3 che F3, quindi game over, questa partita è da abbandono. Ma in questa posizione dopo alfiere F3, il bianco può anche giocare pedone G3, un altro modo per difendersi. Qui si continua comunque con torre A6, stessa idea, venire in G6, può seguire re H2 ad esempio, donna H4, guardate qui che mosse. Chiaramente il pedone in G3 è inchiodato, non può attaccare la donna, può catturare l'alfiere ma sappiamo come finisce la partita, no? Segue scacco matto. Quindi il bianco qui può solo difendersi, può difendere G3, arriva comunque torre in G6 e qualsiasi cosa giochi ora il bianco, il nero vince. Guardate qui che concentrazione di pezzi. Il nero attacca con ben 4 pezzi e il bianco si difende solo con la donna. Facciamo delle mosse a caso, ad esempio A4. Arriva torre in G5, A5, donna per H3, re per H3, scacco matto di torre in H5. Questo è un attacco che nessuno era mai riuscito a fare. Nessuno aveva mai visto qualcosa del genere, perché in questa esatta posizione il bianco ha donna, cavallo e due pedoni per un alfiere. Però c'è scacco matto sulla scacchiera. Ora vediamo come è continuata la partita, ovvero su torre A8 Stockfish gioca donna D1, segue donna per D1, torre per D1, torre per cavallo chiaramente. Alfa 0 ha un pezzo in più, ovvero ha un alfiere in più. Qui comunque il gioco continua, perché Stockfish potrebbe, diciamo, riuscire a costruire una fortezza, non si sa mai. Allora torre A1, alfiere C6, pedone A4, torre per A4, torre per, alfiere per. Bene, anche le torri sono state cambiate. Ora Stockfish porta il re vicino a questi pedoni, quindi copre le debolezze con i re. seguono un po' di manovre con i pezzi e in questa posizione chiaramente anche Alfa 0 inizia ad attivare il suo re. La partita continua, perché non è comunque semplice questa posizione, ma guardate cosa riesce a fare Alfa 0. Va ad attaccare l'alfiere, Stockfish ovviamente deve spostare l'alfiere, segue pedone H5, re F1, re D7 e ora guardate come Alfa 0 riesce a mettere Stockfish in Zuzwang. Qui gioca Alfiere C2, attacca il pedone in D3, Stockfish difende il pedone, segue re in C6 attaccando l'alfiere e dopo un po' di manovre qui, in questa posizione, Alfa 0 chiaramente vuole togliere le case a disposizione dell'alfiere. Ad esempio Stockfish continua con H4, segue re B7, re F1, alfiere D7, re E2, re A6 attaccando l'alfiere, alfiere D8, alfiere F5 per attaccare la debolezza in D3. Qui fanno abbandonare Stockfish intanto, ma noi vediamo comunque cosa succede. Ad esempio, re D2, alfiere B4 scacco, re E2, re B7. Ora il bianco è in Zuzwang. Stockfish non può più muovere il re perché deve difendere il pedone in D3 e non può più neanche muovere l'alfiere perché tutte le case sono coperte. Ad esempio il re controlla queste case, l'alfiere controlla la casa A5 e l'alfiere non può neanche venire in E7 perché è controllata dall'altro alfiere. Quindi il bianco qui può muovere solo i pedoni. Ad esempio pedone F3, segue re in C6, pedone G3 e qui arriva alfiere D6. Due debolezze per il bianco. Stockfish chiaramente non le può difendere entrambe, quindi qui crolla tutto. Ad esempio, re F2, alfiere per D3 e ora veramente questa è da abbandono. Una bellissima partita da parte di AlfaZero, sembrava una posizione pari, hanno giocato teoria per tantissime mosse. La posizione era piatta, era pari, AlfaZero ha sacrificato dapprima un pedone, poi un altro, poi un altro ancora, però poi è riuscito ad attaccare. Grazie a tutti per la visione di questo video, vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima! Grazie a tutti!